che avremmo aggiunto 1.255 posti letto al nostro piano ospedaliero. Noto dell'insoddisfazione. Ma se votate i cittola qualunque arriveranno i fatti. Quello che avverrà da oggi in poi è abbastanza semplice. Potenzieremo la rete ospedaliera per 1.255 posti letto in più. Sembrava quasi una blasfemia qualche mese fa. L'acqua lunghe, più fatti e meno parole. L'acqua alle fatti e fatti, Caincio non funziona, manco il gabinetto.